non era un pensiero ciò che mi riempiva interiormente supino osservavo una falce di luce lassù verso la parte alta della persiana la fessura l'aveva lasciata il muratore rumeno che non aveva stoccato bene il muro quel segmento di luce mi induceva a riflettere mestamente sui problemi che mi affliggevano la pesantezza alla testa e il problema della mia casa ammisurata che la burocrazia libica non mi voleva riconoscere la mia capacità di attenzione e di meditazione era troppo piccola rispetto alle cose che volevo capire per dio ero destinato a rimanere deluso da qualsiasi parte della mia vita mi voltassi quando tentavo di raggiungere qualche punto fermo mi dibattevo nei perché che non riuscivo a dipanare e cadevo tra le reti tortuose del mio pessimismo la cui uscita mi sembrava allontanarsi sempre più e questo sia nella mia casetta in toscana profumata di rose dove mi trovavo sia nel delirio del traffico di milano ed è conoscere le solite domande sulla ragione del dolore sul perché della vita sulla realtà o meno di un dio sulla casualità di tutto ciò che vivo e via dicendo mia madre forse troppo spesso ripeteva che il dolore in cui viveva la nostra famiglia non era fine a se stesso ma lo vivevamo per ricevere da esso la spinta a migliorare a cambiare, a mutare, a comprendere beata lei che credeva così nonostante il dolore in cui era immersa però poco prima di morire mia madre mi fece comprare una vasca per idromassaggi che le scioglieva la cellulite con il tempo mi sono convinto che se esiste un dio è qualcosa di talmente incomprensibile che a poco vale rilevarne l'esistenza ed è per questo che ho cominciato a guardare con occhio benevolo le mie e le altrui sconfitte e a viverle più sinceramente qualche mese fa a Milano a causa della trichiasi di cui soffro da sempre per cui le ciglia mi crescono malamente e grattano sulla cornea mi sono svegliato durante la notte accanto alla mia amante di turno mi sembrava che qualcuno mi avesse spruzzato della cenere negli occhi mi sono sollevato dal cuscino e ho guardato la donna accanto a me ho pensato che senza dubbio stava fingendo di dormire come già aveva fatto con maggiore o minore successo durante altre notti in cui si era soggettata alle mie voglie con imbronciata arrendevolezza trasformando la nostra unione in una farsa mi rammaricavo per quelle notti passate con lei avevo l'impressione di essere uscito sconfitto da una scaramuccia che mi avrebbe dovuto vedermi vittorioso la mia amante aveva la pelle profumata abbronzata, levigata eppure mi aveva costretto ad assaporare l'amarezza della disfatta osservavo la donna che non avevo potuto possedere ma ero quasi divertito dalla mia pazienza e mi domandavo come avrei potuto conquistare veramente il corpo di quella donna intanto pensavo ad una vita oltre la vita che forse non è limitata a questa fugace comparsa su questo pianeta assurdo tutti gli argomenti che potevo portare sarebbero restati soltanto delle elucubrazioni mentali assurdo perché mi preoccupavo di una donna quando non dovevo fare altro che battere le mani per averne a disposizione delle altre d'altra parte perché altre che magari si sbattono da un letto ad un altro relitti morali appestate come me dall'ignoranza del perché sono qui molto tempo dopo lavorai per due anni a Bruxelles conobbi Alina un'ucraina che mi fece innamorare Alina mi sembrava la meraviglia delle meraviglie forse mi invaghì di lei perché parlava il francese e l'inglese come se entrambe fossero la sua lingua madre l'arabo senza dare l'impressione di avere un gomitolo in gola e lo spagnolo in maniera tale che anch'io riuscivo a comprenderlo mi sembrava sempre di essere affamato di Alina e spiavo il suo arrivo con l'ardore di un adolescente nello stesso tempo quando d'inverno passeggiavamo nel freddo boia di Bruxelles mi rendevo conto che qualsiasi cosa pensasse di lei era sempre quella che poteva venire in mente a un pensatore e a poco a poco mi convincevo che non era un pensiero ciò che mi riempiva interiormente per Alina sì, erano estremamente logiche e razionali le facoltà che io riconoscevo ad Alina ma ciò che io sentivo per lei non apparteneva alla mia mente non voglio essere languido e sognante ma Alina era nel mio essere più profondo ecco, dove stava Alina e tutte le altre donne non stavano e sì che Alina aveva la bocca troppo larga le labbra troppo sottili gli zigomi il naso e le arcate sopraccigliari non erano ben modellati e a ben guardare il suo corpo non mi piaceva affatto ma tutto questo scivolava come acqua sul vetro ed Alina mi entrava sempre più dentro e il bello era che io credevo di essere un privilegiato ad avere quel sentire verso Alina attraverso di lei avevo forse scoperto il mio intimo essere che intravedevo come Dio era per questo che l'avevo incontrata oppure l'avevo incontrata perché il mio essere aveva bisogno di lei per scoprire se stesso adesso sono tornato a Milano e spesso sento Alina per telefono e mi sento debitore verso di lei perché è stata la prima ad entrare dentro di me senza nessuna mente senza nessun ragionamento senza nessun raziocinio e questo è il massimo concetto di Dio che ho concepito finora attraverso